a Cristian Micoghero dopo l'incidente della volta scorsa, l'incidente che è capitato nell'ultima gara, riprenderà a gareggiare regolarmente e lo farà domenica prossima sulla pista di Misano, Cristian innanzitutto quali sono le tue condizioni e come è andato questo mese di convalescenza? Io da quando corro ho avuto parecchi infortuni, diciamo che la schiena fortunatamente non mi era mai capitata, però è una cosa abbastanza complicata perché comunque sono stato stare a letto 20 giorni senza muovermi, per nessun motivo non mi potevo girare, andare in bagno, quindi è stato difficile. Mi sono alzato prima del tempo perché comunque avevo due mesi e mezzo buoni di stop, quindi fare questa gara è una cosa molto in anticipo, però io comunque mi sento bene, mi sembra di aver recuperato bene, quindi io ci voglio provare più che altro per non sacrificare tutto il campionato perché era andato bene fino adesso, purtroppo con la caduta al Mugello prendendo 1-0 sulla classifica è pesato molto. Così Cristian Micochero alla vigilia dell'ultimo round del Dallop Cup in programma domenica 29 settembre a Misano. Per il pilota sulmonese non è facile rialzarsi dopo la brutta caduta del 25 agosto scorso al Mugello che gli ha provocato la frattura ad una vertebra. Armato di una grande forza di volontà, Micochero sfiderà tutte le difficoltà per concludere il campionato in maniera prestigiosa. Non so se in modo mi farà male la schiena, cercherò di fare il meglio che posso con queste condizioni, sicuramente a livello mentale non è il massimo perché non guidi proprio con una sicurezza al 100%, però vediamo cosa si può fare. L'obiettivo è chiudere nei primi tre che comunque in un campionato italiano quindi di livello nazionale poi comunque il livello è a con un livello così alto è sicuramente diciamo il top. L'obiettivo inizio anno era quello di vingerlo poi per una serie di cose che sono accadute durante l'anno abbiamo lasciato qualche punticino in giro. Subito dopo l'incidente c'è stata immediatamente la tua convinzione di riprenderti al più presto possibile per gareggiare. Sì io appena sono caduto il primo pensiero è stato quello nel senso cioè magari una persona può prenderti per pazzo però uno che fa diciamo questo questo lavoro è normale che la prima cosa che pensi è il campionato tutti i sacrifici che fai durante l'anno poi magari per una cosa del genere finisce tutto, svanisce tutto quello che avevi creato anche con tutto il team quindi la prima cosa che ho fatto è pensare a guarire il prima possibile. Sono stato seguito da parecchi medici bravi mi ha seguito anche il dottor Costa quindi siamo riusciti a rimetterci a rimetterci in piedi il prima possibile perché comunque con una frattura una vertebra le persone che stanno tre quattro mesi a letto io ho fatto venti giorni sto in piedi quindi sicuramente sono contento di questo. Bisogna sottolineare che in questi giorni in queste settimane c'è stata molta vicinanza da parte degli sportivi che si sono accertati delle due condizioni e questo ovviamente ti fa molto piacere. Sì sì infatti anche in ospedale mi sono venuto a trovare parecchie persone e mi hanno mandato messaggi chiamate quindi la cosa mi ha fatto molto piacere. Bravo Cristian!